Presidente, davvero una 39esima edizione da record e per voi insomma una grande soddisfazione? Sì, per me doppia perché quest'anno io non ho potuto dare il mio contributo, quindi uno staff organizzativo spettacolare. Quest'anno i numeri, insomma, prevedevano anche qualche difficoltà, per adesso è andato tutto bene, quindi diciamo siamo molto soddisfatti sia dell'afflusso sia dell'afflusso turistico perché mi dicono che insomma c'è stato molto afflusso anche della città per visitare Arezzo. Quindi quello che noi vogliamo sempre dire, il turismo sportivo stavolta ancora di più ha funzionato, quindi sono veramente contento e per adesso sono solo complimenti, quindi mi fa molto piacere. Avete dato un premio speciale alla Virtus Trapani, insomma, senza nulla togliere ma arrivare dalla Sicilia e poi la motivazione è molto bella, lo sport annulla le distanze. Esatto, questo è stato scelto insieme al Panathlon proprio per il sacrificio che questi ragazzi hanno fatto, considerato hanno dovuto prendere un aereo, poi il treno, poi i pullman, insomma, quindi mi sembrava giusto fargli questo regalo, mi sembra che hanno apprezzato molto. Si pensa al compleanno Cifratone. Esatto, il quarantesimo bisogna inventare però qualcosa di particolare. So già che Umberto Vezzosi quest'anno non ha portato un ospite, è a caccia di uno importantissimo, chissà, vediamo un po', però dobbiamo fare qualche cosa. Cominceremo a lavorare come al solito invece che la novembre, magari anticiperemo un mese e vediamo un po'. Grazie.